Urlo! Ciao! Sono tutte quante torri di avvistamento quelle che vedrete solitamente quelle con la pianta rotonda sono quelle di carta quadrata un po' più recenti a dire la verità non sale neanche da lì durante il periodo venti Sono venti sottomonti della scuola da Marti sulla scuola costana se io ricordavo giocarti quando ero vicina ho 40 anni alla parte delle scale si trovava ooooh olio 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 Le spaglie mortali giunsero in modo troncale qui ad Amartic, una importantissima processione Il male è quello che prende una fresco Dalle... Musica Ok Semmai erano mezze donne e mezze galline E copertini tra i galli Perché in questo luogo vedevano le sirene Che con la loro voce ammogliavano i poveri animali Sta verticale Vedete i piscini che sono messi? Tutte le pareti rozzose sono ricoperte da questi bellissimi palami Di qua su in alto si vede anche l'aria un po' più rupestre Musica 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 Grazie a tutti.